Alla fine dell'anno era arrivato il fulmine a ciel sereno che aveva tolto a una cinquantina di lavoratori della ex Bertarini di Sesto ogni certezza sul futuro, vista la decisione della Grandi Pastai di chiudere i battenti. Ora, dopo mesi, la situazione sembra essersi sbloccata per alcuni, ma non per tutti. Più della metà del personale sarebbe stato ricollocato nel Cremonese, sempre nel settore alimentare, mentre altri attendono di agganciarsi alla pensione. C'è una parte, specialmente la parte fragile dei dipendenti, dove purtroppo sono ancora a casa, che sono leggermente più impegnative da rimettere sul mondo del lavoro. Una situazione intricata per le posizioni assunte dalle parti in causa, a cominciare dalla questione della cassa integrazione straordinaria. Ora che passi dal mese Regione Lombardia, progetti formativi, li abbiamo aperti dal primo di marzo e i miei colleghi percepiranno quella che è la quota della cassa, forse i primi di giugno. La domanda è questa, questi miei colleghi che sono a casa, come fanno a mantenere l'affitto, la casa, la macchina per tre mesi se non hai nessun reddito? Ha fatto pressione la Paola Amarazzi più di una volta e più di un giorno, ma l'azienda purtroppo ha sempre detto picchi, voi per motivi legati alla liquidità, quello che è. Però quello che è il tuo TFR, sono soldi dei dipendenti, non è che stiamo chiedendo l'impossibile, è una piccola quota del nostro TFR che ci aiuta a sopravvivere. Ho trovato mio, ormai è brutto dire, ex collega, mi spiegava, mi metto fino in imbarazzo a raccontare questo, però per far capire la drammaticità della situazione. Mi serve l'ISE perché devo andare a chiedere un aiuto in comune all'assistente sociale per pagare quello che sono le bollette, l'assegno. E poi quello che mi ha veramente fatto rabbrividire fa, io non riesco a portare a casa i miei figli perché non ho niente da dargli da mangiare. Uno che non sa cosa dare da mangiare ai figli al giorno d'oggi è una cosa drammatica. Nel frattempo si aspetta di conoscere il destino di questo grosso stabile che dietro ha annessa anche un'area importante. E' un'area importante.